ciao ragazzi allora oggi quinto giorno di covid mi sono svegliata fiacca parecchio fiacca e coi formicoli alle gambe giornatina un po pesante penso oggi vediamo come va comunque sono in attesa di un pacco da parte di lucchiero non so se arriva oggi spero di sì e poi basta ieri ho fatto il video sul video sull'album 7 di veroscen andato a vedere e basta tiriamo avanti non vedo l'ora che arrivi ducchiero perché così passo un po il tempo e mi distraigo e